Ciao a tutti amici di CDK, con la vostra Ascala che vi parla vi dà il benvenuto nel video del 2 marzo dedicato ai giochi in uscita, ai giochi gratis e ai giochi scontati che si richiede a proporre oggi per noi. Se invece volete conoscermi meglio potete seguirmi sul mio canale principale di Twitch per i miei streaming, oppure sul mio social di Instagram per i miei aggiornamenti. I link sono tutti quanti iscritti qui sotto in descrizione. E nel mentre noi possiamo iniziare con la presentazione dei giochi di oggi. Il bellissimo gioco gratis che presentiamo per collaboramento ad Amazon Prime e quindi anche Twitch Prime è Surviving in Mars, che è un ottimo gioco anche gestionale di management ambientato nello spazio, davvero molto bellino e soprattutto è completamente gratis per voi. Ci sono tanti altri giochi gratis che potete avere, quindi mi raccomando controllate di riscattarli tutti. Invece gratis per collaboramento al PlayStation Plus stanno dando Arc Survival Evolved, un altro giocone super interessante di esplorazione e sopravvivenza che merita davvero un sacco, quindi assolutamente consigliato di scaricarlo, riscattarlo e poi rimanere nella vostra libreria. Approfittate per giocarlo anche online. Invece gratis per collaboramento all'Xbox stanno dando The Flame in the Food, un gioco che a me personalmente interessava molto, dovrebbe essere anche questo comunque di esplorazione, sopravvivenza, avventura, davvero molto bellino, consiglio grafico anche molto accattivante, quindi assolutamente consigliato di riscattarlo anche qui e di giocarlo perché davvero merita un sacco. Invece sempre gratis per collaboramento al PlayStation Plus stanno dando anche Ghost Runner per PS5 che è un signor gioco in prima persona, anche d'azione di compartimento, davvero super bello in stile Cyberpunk, quindi consigliatissimo di riscattarlo e di giocarlo e non perderti tutti gli altri giochi gratis che stiamo proponendo oggi. E invece per i giochi in uscita il 4 marzo uscirà Gran Turismo 7 per PS4 che molti comunque stavano aspettando perché la serie di Gran Turismo è super famosa, è super conosciuta e finalmente esce anche il nuovo capitolo e soprattutto è scontato già adesso nel 20% sul suo sito quindi non perdetevi la data di uscita e mi raccomando compratelo da noi. Invece il 10 marzo uscirà Distant Wars 2, un nuovo gioco di management in stile anche molto specifico, in stile spaziale, davvero molto bello, anche qui sono molto curioso e soprattutto è scontato già adesso del 30%, quindi approfittatene, tenete d'occhio la data di uscita e non perdetevi questo gioco. Invece l'11 marzo uscirà Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok che dovrebbe essere il nuovo DLC, dovrebbe essere se non sbaglio, dovrebbe essere il nuovo DLC del gioco. Quindi se avete comprato il gioco e volete prendere questo DLC è assolutamente consigliato di comprarlo da noi perché è già adesso scontato del 24%, quindi non perdetelo. Invece l'11 marzo uscirà anche WWE 2022, se seguite la serie di WWE che so che molti e anche i miei amici la seguono è la vostra occasione anche per comprare il gioco che è bellissimo, super realistico e meta tantissimo e soprattutto è scontato del 28%, quindi mi raccomando tenete d'occhio la data di uscita di questo gioco e di tutti gli altri giochi che usciranno in questa settimana. Invece per i giochi super scontati a poco meno di 5€ con uno sconto del 73% abbiamo Banners of Ruin un gioco di avventura a turni e anche di che dovrebbe essere comunque deck building davvero molto bellino che vi consiglio di giocare perché davvero meta un sacco a poco meno di 5€ è un prezzo stracciatissimo. Invece a circa 13€ con uno sconto del 78% abbiamo di Outer Worlds un gioco di esplorazione e di avventura anche molto famoso che vi consiglio di giocare e di comprare anche perché a 13€ è un prezzo bassissimo ed è il vostro momento quindi mi raccomando compratelo e giocatelo. Invece a poco meno di 6€ con uno sconto dell'80% abbiamo The Witcher 3 Wild Hunt che penso che non abbia neanche tanto bisogno di spiegazioni perché sappiamo quanto è figo The Witcher 3 e quanto è famosa e se non l'avete ancora recuperato è la vostra occasione. Recuperatelo adesso che costa solo 6€ e davvero ne vale la pena. Prendetelo e divertitevi. Invece l'ultimo ma non meno importante a poco meno di 4€ con uno sconto dell'80% abbiamo Treibs of Midgard un gioco d'azione di combattimento dal lato verso il basso davvero super bello e interessante quindi anche qui presso bassissimo approfittatene. Noi invece con quest'ultimo gioco concludiamo il video di presentazione di oggi e vi ringrazio per aver visto questo video e noi ci vediamo alla prossima presentazione dei giochi o più vi aspetto sui miei canali Twitch e sui miei social. Alla prossima, ciao ciao!